Ringraziamo la tecnologia che ci permette di rendere visibile la nostra comunione a distanza, quindi grazie, grazie della carità dell'ascolto, saluto il Vescovo, grazie eccellenza anche della pazienza nel mettersi ad ascoltare una qualche provocazione e parola di riflessione che cercherò di dare proprio a partire da questo tema, che avvertivo un tema che sta crescendo anche all'interno della consapevolezza un po' della vostra Chiesa e della vostra comunità cristiana. In realtà non è facile parlare dell'Eucaristia perché l'Eucaristia rimane un mistero. Le cose misteriose non sono cose che non possiamo conoscere, ma sono cose inesauribili. Ciò significa che qualunque cosa noi ci sforziamo di dire non basta mai, non chiude mai fino in fondo la conoscenza di queste cose e quindi dobbiamo arrenderci con molta umiltà a dire che in fondo le nostre parole rimangono semplicemente parole che si avvicinano, ma che non sono mai fondamentalmente esaustive. Allo stesso tempo però dire che l'Eucaristia è un mistero significa dire che esistono tanti approcci, tante caratteristiche, tante strade che ci portano ad indagare questo mistero, ad entrare in relazione con questo mistero. Un po' come capita a Gesù stesso, cioè le persone che con Gesù costruivano una relazione non costruivano tutti la stessa relazione. Ognuno si sentiva affascinato da Gesù da punti di vista diversi, da cose diverse anche del suo Vangelo, del suo insegnamento, della sua persona, dei suoi gesti. Noi come Chiesa, che stiamo vivendo anche questo tempo del sinodo, sulla sinodalità appunto, su questa caratteristica che dovremmo far emergere di più all'interno della nostra Chiesa, ecco, alla base della sinodalità c'è proprio la diversità, cioè il fatto che la Chiesa rinuncia fin dall'inizio all'uniformità per fare spazio invece alla comunione, cioè a qualcosa che tiene insieme il popolo dei credenti e lo tiene insieme a partire appunto da punti di vista diversi, caratteristiche diverse. Un esempio fra tutti è proprio quello dei Vangeli. Noi abbiamo quattro Vangeli che raccontano la stessa storia, la stessa persona, ma lo fanno da quattro prospettive diverse. Tre si assomigliano, che sono quelle dei sinottici, e poi ce n'è una che è radicalmente diversa, che è quella dell'evangelista Giovanni. Ma nonostante la somiglianza e nonostante che si parli della stessa persona, della stessa storia, troviamo anche punti di contraddizione, testimonianze che poi a un certo punto possono smentirsi l'un l'altro, ma che a mio avviso invece dicono proprio la verità del fatto di Gesù. Rendersi conto che attraverso i secoli noi crediamo nei quattro Vangeli significa aver assunto la diversità proprio come metro di misura nel nostro rapporto con Cristo. Allora la misericordia, la preghiera che emerge in Luca è completamente diversa invece da quella attenzione alla persona di Gesù Cristo, più ancora che i suoi insegnamenti che noi troviamo invece nel Vangelo di Marco. Oppure tutto quel cristianesimo che respiriamo nel Vangelo di Matteo è molto diverso invece da tutta quella visione teologica che noi possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo quattro persone, due l'hanno incontrato per davvero, altri due invece sono figli anche di una seconda epoca, di un secondo tempo, non sono testimoni di primo pelo, diciamo così. E nonostante questo noi crediamo che lì c'è tutta la testimonianza su Gesù, in quella diversità si gioca tutta la testimonianza su Gesù. Perché vi ho voluto fare questo esempio? Perché nella storia della Chiesa, anche nella storia che caratterizza un po' le nostre comunità cristiane, ci sono state donate delle figure di santi. E queste figure di santi hanno mostrato un approccio a Cristo molto unico, molto personale. Ci hanno tracciato delle strade, dei punti di vista privilegiati sul mistero di Gesù Cristo, che a un certo punto creano anche delle vere e proprie spiritualità, cioè degli alfabeti in cui tanta gente poi riesce a ritrovarsi. Le parole, le esperienze, le immagini che questi santi hanno usato all'interno della loro vita diventano utili a tanti altri. E' il caso di Carlo Acutis, di questo giovanissimo santo così vicino a noi, così tremendamente vicino a noi, di cui noi possiamo, a differenza di tanti altri santi, non soltanto conoscere le persone che hanno vissuto con lui, ma poter vedere le immagini, poter vedere anche l'opera di questo ragazzo, che nel breve viaggio della sua vita ci ha offerto uno sguardo sul mistero di Cristo e soprattutto sul mistero dell'Eucaristia, che davvero può diventare un'autostrada anche per ciascuno di noi, cioè può diventare un aiuto per ognuno di noi. Ora, io avevo pensato oggi pomeriggio, proprio a partire dalla testimonianza di Carlo Acutis, di focalizzarmi su due punti, che secondo me sono forse i punti che attraversano la spiritualità di Carlo Acutis, ma in fondo sono due fari che possono aiutarci ad entrare nel mistero dell'Eucaristia, perché parlano concretamente alla vita di ciascuno di noi. Vorrei partire proprio da qualcosa di molto esistenziale, che ognuno di noi si porta dentro, e che l'Eucaristia è la grande risposta a questo bisogno che ognuno di noi si porta dentro. Qual è questo bisogno? È il bisogno di non essere soli. Noi siamo degli esseri relazionali, il nostro più grande incubo consiste proprio nella perdita delle relazioni, cioè noi avvertiamo che la nostra vita è significativa solo e soltanto se è dentro dei legami, ci sono delle relazioni attraverso cui può passare la vita. Senza le relazioni ci rimane semplicemente una vita biologica, priva di significato e che diventa insopportabile per noi. Pensate un po' quando una persona desidera di morire. Molto spesso nel desiderio di morte c'è il crollo delle relazioni, cioè non passa più nessun significato rispetto a quello che una persona sta vivendo all'interno della propria vita. È proprio mentre si ammalano le relazioni in cui la persona sperimenta la solitudine, che in quella solitudine emerge un desiderio di morte. Non riusciamo più a sopportare la vita, perché una vita da soli non è più vita, è un inferno. Ecco, questa paura atavica che attraversa il cuore di ciascuno di noi non è una paura semplicemente dell'uomo contemporaneo, cioè non è semplicemente una paura che caratterizza la nostra società contemporanea. Anche se dobbiamo dire che noi stiamo vivendo in un'epoca in cui viene così enfatizzato l'individualismo, l'individualismo è la realizzazione dell'uomo a prescindere dagli altri, è questo concentrarsi su noi stessi, sul nostro io, fino a dimenticarci degli altri, in cui se da una parte sperimentiamo una sorta di delirio di onnipotenza, perché pensiamo di poterci autorealizzare, dall'altra parte questa è un'epoca in cui noi viviamo molta infelicità, molta tristezza, molta angoscia, perché l'individualismo non produce gioia, può produrre un entusiasmo che finisce, ma a un certo punto lascia il vuoto, lascia proprio l'esperienza del nulla, lascia un grande desiderio di morte. Ecco, se la nostra società oggi è caratterizzata da una solitudine che si fa spazio sempre di più anche nei nostri ambienti, anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, non basta vivere accanto a una persona per smettere di sentirsi soli, non basta vivere in una comunità per smettere di sentirsi soli. A me capita molto spesso per il mio ministero di incontrare tante persone, ma anche tante esperienze ecclesiali, ed è una cosa che mi colpisce sempre profondamente, come ad esempio un religioso o una religiosa possono vivere in comunità e sentirsi invece profondamente soli. Come un prete può vivere in una diocesi, dentro un presbiterio, e sentirsi profondamente da solo. Come una persona può vivere in una famiglia, avere accanto mogli e figli, o viceversa, legami eccetera, ma sentirsi profondamente soli. Perché non basta la semplice convivenza per esorcizzare questa solitudine, cioè non basta avere fisicamente delle persone accanto per sentire di non essere da soli. soltanto quando costruiamo un legame profondo in cui entra in ballo l'amore, allora diminuisce la solitudine e cominciamo a sperimentare qualcosa di diverso. Quindi non basta semplicemente essere accostati, abbiamo bisogno di comprometterci gli uni e gli altri, di entrare nella vita gli uni degli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, dice l'Apostolo. Sopportatevi a vicenda, cioè portatevi sulle spalle vicendevolmente. Ecco, entrare in relazione per noi è una necessità umana, che prescinde anche dall'esperienza di fede. Cioè l'essere umano soltanto quando avverte che c'è una relazione, avverte che la propria vita è significativa. Allora immaginate un po' quando Gesù, dopo i tre anni di vita pubblica, comincia ad annunciare ai suoi discepoli che andrà via, che dopo quell'esperienza entusiasmante che hanno vissuto insieme, in cui parole, catechesi, miracoli, ma diciamo così, la presenza viva e reale di Cristo, presente con loro, a un certo punto andrà via, non ci sarà più. Ecco, questa partenza di Gesù mette in crisi i discepoli. Gesù cerca di spiegare che lui deve andarsene perché in realtà se lui non va via non verrà lo spirito, cioè non verrà una presenza che è una presenza completamente diversa, una presenza nuova, una presenza che porterà i discepoli ad avere anche una libertà diversa, una libertà nuova. Ma è interessante come lo sconvolgimento dei discepoli in realtà è uno sconvolgimento molto umano, uno sconvolgimento che caratterizza la vita, la vita di ognuno di noi. Bene, noi sappiamo che c'è una promessa che Gesù fa in quel momento, io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Gesù mantiene la parola rispetto a questa promessa attraverso proprio il mistero dell'eucaristia. Non è l'unico, cioè non è l'unico modo attraverso cui egli manifesta la sua presenza, ma se noi dovessimo indicare la presenza più vera, più reale, più concreta, in cui attraverso cui Gesù mantiene questa promessa, certamente è l'eucaristia. Allora scoprire o riscoprire il mistero dell'eucaristia significa riscoprire il mistero di una presenza. Solo se Cristo è presente allora è interessante, perché se Cristo non è presente può anche non essere interessante, perché il suo insegnamento è un insegnamento che arriva fino a un certo punto, ma la forza dell'insegnamento di Cristo non è data da ragionamenti, non è data da frasi che a un certo punto ci convincono che dobbiamo vivere in questo o in quest'altro modo. La forza del ragionamento di Cristo è Cristo, è la sua persona. Quindi se viene a mancare la concretezza della sua presenza, anche il suo messaggio arriva fino a un certo punto. Vedete, amici, io credo che questa sia una cosa molto importante che a volte come cristiani noi dimentichiamo, e cioè la vita non può essere gestita soltanto con la testa, la vita non può essere gestita soltanto con le spiegazioni e con i ragionamenti. Il Papa ci mette spesso in guardia da questa eresia che continua ad affacciarsi nella Chiesa. Fondamentalmente noi siamo sempre vittime di due o tre eresie che si ripresentano nel corso della storia. Una di queste è proprio l'eresia agnostica, che è la grande illusione di pensare che noi siamo in rapporto con Cristo e che noi viviamo autenticamente una vita di fede e una vita, diciamo così, soltanto se teniamo tutto sotto controllo con i nostri ragionamenti, se teniamo tutto sotto controllo con la nostra testa. Ma in realtà non funziona così, perché nella vita uno può spiegarti tutto, ma arriva un momento in cui se tu non hai la forza di vivere ciò che hai capito, quello che hai capito diventa la tua condanna, diventa anzi la tua vera disperazione. Che cosa fa un genitore? Che cosa fa qualcuno che ama? Non si limita semplicemente a spiegare la vita a un figlio, a una persona che gli è affidata. Non gli dice semplicemente la teoria. Offre la propria presenza come la grande forza per poter mettere in pratica quello che uno spiega. La forza di un bambino non è nell'insegnamento dei genitori, ma nella presenza dei genitori. La forza di un bambino non sta tanto nel capire tutte le raccomandazioni che il padre e la madre gli fanno, ma nel sentire che qualunque cosa accadrà nella propria vita avrà queste persone accanto, avrà queste persone su cui potrà appoggiarsi. Cioè è la presenza reale di queste persone che danno a un figlio la fiducia di affrontare la propria esistenza e la propria vita. Ecco, credo che questo meccanismo non sia vero soltanto in una certa età della nostra vita. Noi, soprattutto poi, quando le cose cominciano a complicarsi, diventiamo adulti, dobbiamo affrontare cose anche molto serie, anche in quel momento noi non abbiamo bisogno semplicemente di qualcuno che ci spieghi, di qualcuno che ci doni dei comandamenti, di qualcuno che ci dica come dovremmo vivere. Abbiamo bisogno di qualcuno su cui poggiare la nostra vita, di una presenza che renda possibile la nostra vita, la nostra storia. Ecco, noi possiamo dire di essere cristiani non quando abbiamo capito tutti gli insegnamenti di Gesù, ma quando sentiamo fondamentalmente che qualsiasi cosa sta accadendo nella nostra vita noi non siamo da soli. Quando noi avvertiamo di non essere soli possiamo affrontare tutto. Ecco, il mistero dell'eucaristia è il grande mistero che fa dire a ciascuno di noi non siamo soli. Qualunque cosa accada nella vita non siamo soli. Anche se non stiamo capendo più nulla non siamo soli. Anche se stiamo affrontando qualcosa che è difficile, che è ingiusto, che non vorremmo, possiamo affrontarlo, possiamo viverlo perché non siamo soli. È questa presenza la nostra forza, è questa presenza il nostro segreto. Il Vangelo non ci chiede di essere autosufficienti, ci chiede invece di poggiare la nostra vita esattamente su questa presenza. Io mi domando se è così anche per ciascuno di noi. Cioè, se la nostra vita è costruita su questa presenza. Anzi, molto spesso noi siamo molto disperati perché ci mancano le parole, ci mancano i ragionamenti per poter vivere, affrontare tante cose che ci accadono nella vita. Immaginate soprattutto quando si affaccia alla sofferenza o quando dobbiamo vivere qualcosa di molto difficile, quando i nostri calcoli, le nostre forze, quando tutto quello che avevamo pianificato viene messo in discussione. Dove troviamo la forza? Come possiamo affrontare quello che la vita ci ha riservato se non a partire da qualcuno che è presente in quel buio, che è presente in quella circostanza? Ora, la presenza è qualcosa di così importante nella vita di un cristiano che se il male vuole toccare la nostra vita per danneggiarla, la prima cosa che vuole è farci sentire da soli. Cioè sentire che non c'è nessuno, che le nostre preghiere non sono ascoltate, che nessuno ha cura di noi, che non è vero che abbiamo un Dio che è il nostro padre, perché se Dio è il nostro padre allora perché ci accadono queste cose? Cioè mette in atto dei ragionamenti per ampliare, per amplificare il nostro senso di solitudine. E quando noi ci sentiamo da soli diventiamo fragili, diventiamo manovrabili. Allora vivere l'eucaristia significa lasciare che questa presenza possa evangelizzare la nostra vita, possa trasfigurare la nostra vita, possa cambiare radicalmente la nostra vita. In questo senso è qualcosa che supera il nostro ragionamento e forse anche precede il ragionamento. Forse questo è anche il motivo per cui a volte noi proviamo molta fatica a fare l'adorazione eucaristica silenziosa. Noi davanti a Gesù è eucaristia, punto e basta. Perché sentiamo di non far nulla in quel momento. Ci viene subito la tentazione di leggere qualcosa, di riempire di preghiere quegli istanti, perché non riusciamo a capire invece che in quel momento noi abbiamo bisogno semplicemente di entrare davanti a questa consapevolezza di una presenza che a un certo punto rischiara tutte le tenebre che ci portiamo nel cuore. E ci dà una forza nuova, una certezza nuova, ci dà un punto di appoggio nuovo. Ecco, ho sempre pensato che il pallino di Carlo Acutis di mettere su anche una mostra che parlasse dei miracoli eucaristici in realtà fosse quella proprio di infondere nelle persone la grande convinzione che l'eucaristia non è semplicemente il simbolo di qualcosa, non è un far finta, non è un ripetere dei gesti del passato, non è semplicemente un pretesto per tenerci insieme in qualche liturgia, ma l'eucaristia è davvero la presenza reale di Cristo in questo momento della nostra storia. Cioè un Dio che entra non in una storia astratta, ma in questa storia, in questo istante, in questo presente. Se Dio esiste, Dio è presente, non è il Dio del passato o del futuro, ma è il Dio di questo presente. Se l'eternità esiste, l'eternità si interseca, si innesta nella nostra storia proprio attraverso questo presente. Diceva un grande poeta francese, Dio è qui, Lui è qui, è qui in questo momento, ma tante volte noi dubitiamo di questa presenza. Allora, mi piace pensare anche qui, semplicemente un tentativo di dare significato a delle cose che poi sfuggono anche un po' alla nostra capacità di chiudere il discorso. Perché il Signore permette o ha permesso all'interno della storia a questi miracoli eucaristici? Che cosa sono questi miracoli? Non sono la celebrazione del sensazionale, ma sono come quasi un aiuto a tornare ad essere consapevoli che quella promessa che Gesù ha fatto più di duemila anni fa, io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo, è una promessa che Egli ha mantenuto e continua a mantenere. allora capiamo che andare alla ricerca di queste storie che Carlo Agutis mette insieme in questa mostra non significa distrarci dall'essenziale cristiano, non significa andare dietro al miracolistico, ma andare dietro a ciò che quel miracolo indica, a ciò che sta a significare quel miracolo, allo scopo più grande di quel miracolo, che è ridire di nuovo ad alta voce Lui è qui, Lui è presente. È interessante soprattutto per il miracolo eucaristico di Lanciano, quando negli anni 70 i francescani danno il permesso di poter analizzare quelle che sono le specie eucaristiche conservate lì nel santuario, la cosa che colpisce i medici è in realtà nell'analizzare questi frammenti non è stato semplicemente un medico, ma poi c'è stata un'intera equip che ha lavorato tantissimo e è andata a verificare tutti i risultati che erano venuti fuori, che lì non c'è semplicemente del materiale umano, ma che quel tessuto umano era un tessuto del cuore di una persona e che quel sangue era un sangue fresco, cioè un sangue prelevato da una persona non più di un quarto d'ora prima. Questa è una cosa che ci lascia senza parole, non è che noi abbiamo bisogno del miracolo eucaristico di Lanciano per credere nell'eucaristia, eppure questo miracolo risveglia in ciascuno di noi una consapevolezza a cui tante volte noi ci siamo abituati. L'eucaristia per noi può essere diventato semplicemente un rito e ha smesso di essere una presenza. O l'eucaristia torna ad essere una presenza, oppure semplicemente un altro apparato religioso che noi usiamo in mezzo a tante altre cose di cui abbiamo riempito un po' la nostra fede e un po' le nostre prassi ecclesiali. Vivere la presenza di Cristo significa riagganciarci all'unica cosa che può cambiare sostanzialmente la nostra vita, la nostra storia. Ecco, anche Carlo Acutis si rifaceva a figure di Santi, a figure che lo avevano ispirato e che a loro volta lo avevano aiutato a tenere lo sguardo fisso su un punto, a focalizzare un punto importante. Ed è un'altra figura di un santo giovane che è Francisco Marto, che è uno dei pastorelli di Fatima. Francesco e Giacinta sono due fratelli che per primi moriranno, invece Lucia attraverserà tutto il Novecento come la grande testimone dei fatti avvenuti a Fatima, ma in questi due fratelli ci sono due caratteristiche caratteristiche molto interessanti. L'amore per i peccatori e per la conversione dei peccatori, ecco quello che viveva Giacinta, è invece un amore sproporzionato, profondo, intenso, alla Giovanni per intenderci, per l'Eucarestia che aveva invece proprio Francesco. Francesco di Fatima chiamava Gesù Eucaristia e Gesù Nascosto e Lucia stesso quando ne traccia il profilo biografico racconta che questo bambino sentiva l'attrazione di passare molto tempo vicino all'Eucarestia, in chiesa, vicino al tabernacolo, quasi a sentire un bisogno non soltanto di stare alla presenza di Cristo, ma lui diceva di consolarlo, di fare lui qualcosa per Gesù, non semplicemente Gesù qualcosa per lui, ma lui qualcosa per Gesù. Ecco, anche questo è un fatto molto importante, capire che nell'Eucarestia non c'è un amuleto, non c'è un oggetto, ma c'è una persona e se c'è una persona allora tu con quella persona devi costruirci un legame relazionale, in una relazione tu doni e prendi, non prendi e basta e non doni e basta, ma ci si apre alla reciprocità. Ecco, se fino adesso abbiamo cercato di sottolineare come la presenza di Gesù all'interno dell'Eucarestia e la cosa più interessante di tutto il suo insegnamento, la sua persona presente, la cosa più interessante di tutto il suo insegnamento, ecco, questa presenza esige da noi che ci costruiamo una relazione di reciprocità, fare noi qualcosa per lui e lui fare qualcosa per noi. Mi farebbero alla mente diversi esempi di molti santi a questo proposito, ma vorrei semplicemente segnalarne uno, quello che Pier Giorgio Frassati, un altro santo giovane amava dire, lui che era un giovane che aveva come caratteristica una cosa che a volte noi dimentichiamo, una totale normalità, era un giovane normale che frequentava gli amici, che aveva una sua comitiva, che amava lo sport, che si innamorava e allo stesso tempo che viveva in una famiglia difficile, disastrata, perché anche questa è una normalità, cioè i santi non sono soltanto figli di storie che sono rose e fiori, a volte sono figli di storie che assomigliano alle nostre storie, storie di drammi familiari, di genitori che non vanno d'accordo, di carenze affettive, di desideri di riscatto. Ecco, Pier Giorgio Frassati è un uomo normale, un ragazzo normale che frequenta quotidianamente l'Eucaristia e dice ecco, in quel momento Gesù fa qualcosa per me, poi io vado dai poveri e gli restituisco la visita. Interessantissimo come questo ragazzo riesce a capire che c'è un legame profondo tra ciò che si celebra in quell'Eucaristia e il volto concreto dei fratelli, la vita concreta delle persone. Questo credo che sia importante perché la presenza di Cristo, ad esempio, uno che partecipa all'adorazione eucaristica, in realtà non si sta separando dal mondo, ma in realtà sta entrando così intensamente dentro la realtà in cui la prova vera di quella Eucaristia e di quella adorazione sta nel fatto che si sviluppa in lui una maggiore empatia nei confronti dei fratelli e delle sorelle, una maggiore capacità di misericordia, una maggiore capacità di compassione, un desiderio più profondo di servizio nei confronti dell'altro. È lì che si verifica se l'Eucaristia, se la presenza di Cristo nell'Eucaristia sta portando frutto. Da quanto noi riusciamo poi a riconoscere questa presenza poi nei fratelli e nelle sorelle che abbiamo accanto? Ecco, credo che questa sia la prima grande parola a cui ci abitua la spiritualità di Carlo Acutis, considerare Gesù interessante soprattutto per la sua presenza, considerare l'insegnamento di Gesù fondamentale soprattutto perché ci ha offerto la sua persona che rimane contemporanea a noi attraverso il dono dell'Eucaristia e mentre noi viviamo quel legame attraverso una spiritualità eucaristica che tiene in piedi appunto la presenza, ci avviciniamo a questo secondo punto che vorrei con voi condividere questa sera. Quando si ama qualcuno inevitabilmente si comincia ad assomigliare a questo qualcuno. Cioè noi che partecipiamo all'Eucaristia in realtà dovremmo trasformarci in Eucaristia e se dovessimo sintetizzare in che cosa consiste il dono dell'Eucaristia dovremmo dire che Gesù nel mistero eucaristico dona se stesso donare ecco questo è il verbo più importante dell'Eucaristia prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto prendete e bevetene tutti questo è il mio sangue offerto ecco che cos'è la donazione? Che cos'è questa questo verbo che ci insegna l'Eucaristia questa trasformazione che attua dentro la nostra vita? Allora noi dovremmo guardare in maniera molto umana la nostra esistenza e dire che c'è un momento della vita in cui noi pensiamo che saremo felici nella misura in cui il mondo si adeguerà a noi al nostro io cioè noi siamo talmente tanto concentrati su noi stessi che avvertiamo come fastidio tutto ciò che ci distrae da noi stessi in fondo noi viviamo per noi stessi ecco nella vita normale di una persona a me piace sempre fare questo esempio un adolescente sapete quando viene fuori dal proprio egocentrismo quando si innamora perché quando si innamora la persona che sta amando la persona che lo fa innamorare lo fa distrarre da se stesso cioè tu puoi dire di innamorarti quando trovi qualcuno che ti sposta lo sguardo da te verso qualcos'altro ti aiuta a decentrarti l'amore è trovare qualcosa che ci toglie dal centro e che ci fa alzare lo sguardo dal nostro ombellico e guardare intorno a noi guardare avanti a noi tu ami quando mettendo al mondo un figlio ti accorgi di non essere più tu il centro ma è tuo figlio che è diventato il centro tu ami quando le persone che ti sono affidate diventano loro il centro non sei più tu il centro tu ami quando tutta la tua vita ne provi un'infinita gioia nella misura in cui tu doni qualcosa a qualcuno e non nella misura in cui tu prendi la vita di qualcuno questa guarigione dello sguardo questa guarigione del cuore è l'incontro con l'amore ecco l'amore è una di quelle cose che tu puoi vivere soltanto se la incontri nella vita se tu non hai davanti agli occhi qualcuno o qualcosa che ti ha fatto vedere veramente cosa sia l'amore non riesci ad amare è un po' come la lingua che noi parliamo noi siamo degli esseri imitativi noi parliamo perché abbiamo sentito qualcun altro parlare agiamo in un certo modo sempre ad imitazione di qualcuno cioè noi assomigliamo sempre a ciò che abbiamo sotto gli occhi che cosa dovrebbe fare fondamentalmente l'eucaristia dovrebbe donarci una cosa che a volte non abbiamo ricevuto nella nostra vita se la cultura del mondo se il nostro modo normale di vivere di essere è quello di pensare che noi valiamo nella misura in cui ci concentriamo su noi stessi nella misura in cui noi viviamo la nostra vita prendendo pensate a quello che succede nella vita di una persona quando vive in una famiglia in cui il padre e la madre non si sono voluti bene in una famiglia dove c'è divisione e discordia dove c'è mancanza di stima ecco chi in un ambiente familiare non ha fatto un'esperienza di amore anche se la desidera con tutto se stesso quando comincerà la relazione con qualcuno avrà sempre come modello ciò che ha ricevuto dal passato e quindi se da una parte vuole amare poi gli manca invece un riferimento concreto per dire ma che cosa significa voler bene a qualcuno che cosa significa donare donarsi agli altri che cosa significa costruire una relazione sana ecco per poter far questo abbiamo sempre bisogno di un modello di qualcuno che ce lo mostri nell'eocarestia noi veniamo messi proprio in questa in questa condizione di poter imparare una cosa che in realtà a volte non abbiamo ricevuto dentro la nostra vita noi partecipiamo l'eocarestia perché l'eocarestia ci trasformi in eucarestia perché ci insegni il dono di noi stessi perché ci aiuti a decentrarci perché ci aiuti a non usare più una logica dell'affermazione di noi ma la logica del servizio la parola ha un'espressione bellissima in questo senso dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere c'è più gioia nel dare che nel ricevere ma noi siamo convinti di questo forse qualche volta l'abbiamo sperimentato nella vita che ci siamo talmente tanto sentiti pieni di gioia nel momento in cui ci siamo tolti noi qualcosa per darla a qualcun altro ecco il mondo quando vede il gesto attraverso cui tu togli qualcosa dalla tua vita per darla a qualcuno chiama questo gesto sacrificio chi ama non chiama mai sacrificio questo gesto ma lo chiama esigenza dell'amore cioè proprio perché sto amando non potrei fare a meno di fare quello che sto facendo allora voi capite che molti degli insegnamenti di Gesù a noi sembrano dei sacrifici perché non siamo abituati ad amare ma quando cominciamo ad amare capiamo che il Vangelo non ci insegna a sacrificarci ci insegna a donarci guardate che le parole sono importantissime finché noi continuiamo a vivere la nostra vita semplicemente pensando che dobbiamo sacrificarci e pensando che quei sacrifici danno gloria a Dio scusatemi ma questa è una visione pagana continuare a portare avanti un un'immagine cristiana in cui noi facciamo propaganda a un sacrificio che assomiglia soprattutto al sacrificio pagano noi non stiamo facendo un favore al Vangelo il sacrificio cristiano ha un altro nome si chiama dono di sé ecco questo ha fatto Gesù ha donato se stesso quando diciamo che Gesù si è sacrificato non stiamo dicendo semplicemente che si è tolto qualcosa ma che ha amato fino alle estreme conseguenze chi vive dell'eucaristia impara ad amare fino alle estreme conseguenze non semplicemente impara a sacrificarsi impara ad amare questa è la cosa più interessante perché diversamente noi possiamo passare la nostra vita a sacrificarci ma non ad amare e Paolo che era sempre geniale quando diceva le cose dice se anche io dessi la mia carne per essere data no in martirio offerta per qualcuno ma non lo facessi per amore ma non avessi la carità dice Paolo non servirebbe a niente nemmeno morire se tu non muori per amore non servirebbe a niente il sacrificio della tua vita ecco perché forse la cosa più interessante che ci insegna l'eucaristia è amare e se tu ami puoi fare qualunque cosa puoi vivere qualunque cosa puoi vivere anche una malattia perché se la vivi nell'ottica dell'amore avrà un senso avrà uno scopo puoi vivere tutta quella fatica che si vive in una famiglia perché se la vivi nell'ottica dell'amore porterà sempre gioia anche se ti dà se in quel momento ti fa piangere puoi vivere tutte le difficoltà che certe volte ci riserva l'esistenza perché non è semplicemente la privazione di qualcosa o un'ingiustizia ma nell'ottica dell'amore tutto assume un senso un significato ecco noi unendoci all'eucaristia entriamo nella dinamica dell'amore nella dinamica dell'offerta nella dinamica del dono di noi stessi e veniamo riscattati dai sacrifici pagani cioè dalla semplice privazione dal vivere la nostra vita semplicemente come un taglio una mancanza un toglierci le cose il segreto il segreto della gioia per noi è nel dono di noi stessi davvero c'è più gioia nel dare che nel ricevere in questo senso penso che il vilipendio più 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 terribile che noi possiamo fare nei confronti dell'eucaristia è non permettere a Gesù di amarci attraverso l'eucaristia in questo senso deve essere terribile per una persona che ama donare qualcosa all'amato e sentire che l'amato rifiuta quello che gli stai donando che ti sta donando questa è una cosa interessante che anche noi dovremmo sviluppare come accogliamo il dono di Cristo nell'eucaristia e come questo dono ci trasforma in che senso cambia il nostro modo di stare al mondo in che senso noi entriamo in un'ottica completamente diversa in che modo la nostra vita viene trasfigurata e viviamo la nostra vita come il dono di noi stessi non è stata forse questa l'esperienza di Carla Cutis o voi pensate che Carla Cutis è santo semplicemente perché è morto ancora adolescente perché è morto di una terribile malattia ma si può morire di una terribile malattia punto e basta oppure si può morire di una terribile malattia e farla in quella dinamica di amore di dono di sé che quel ragazzino ci ha insegnato e che tanti santi hanno insegnato tante persone che forse non vedranno mai gli onori degli altari ma hanno vissuto così la propria vita la propria storia questo sta a significare che il destino della nostra vita non è mai consegnato alle cose che ci succedono perché possono succedere tante cose nella vita ma al modo con cui noi viviamo le cose che ci succedono allora quando uno ci dice come devo vivere le cose che mi succedono nella vita da chi mi insegnerà a vivere le cose che mi accadono nella vita te lo insegnerà Gesù e te lo farà in due modi fondamentalmente aprendo la tua mente a quella che è l'intelligenza delle scritture ma soprattutto attraverso la testimonianza che egli stesso ti dà nell'eucaristia ecco Gesù fa due cose spiega e mostra illumina e sostiene ecco queste sono due cose che non dobbiamo mai separare e che sono sempre un immenso dono anche per ciascuno di noi vorrei concludere questa questa mia riflessione proprio facendo forza su questi due punti focali che nascono proprio dalla spiritualità di Carlo Acutis riscoprire la presenza e domandarci ma io sento che Dio è presente nella mia vita cioè che non è l'amico immaginario che non è uno che io mi dico con come una sorta di autoconvinzione Dio c'è presente qui sì sì me lo ripeto ma io so che è così presente che posso persino indicare dove si trova che c'è un luogo fisico qui nella storia in questo momento in cui posso dire qui Gesù è realmente presente non misteriosamente presente ma realmente presente sì per noi è l'eucaristia allora sapere che c'è qualcosa di così concreto dove tutto l'infinito di Dio è racchiuso questo è il mistero di una presenza che si racchiude nel frammento del pane tutta la divinità di Gesù tutta la sua storia tutto quello che i discepoli hanno vissuto nella loro vita noi ce l'abbiamo ancora lì tutto presente nell'eucaristia noi ci crediamo e soprattutto questa presenza in che modo cambia la nostra vita se io so di non essere da solo se io so di non essere da sola cambia o no la mia esistenza o è una cosa che so soltanto nella mia testa ma in fondo io non ci credo questa è la prima cosa che forse dovremmo interrogarci e poi la seconda cosa ci lasciamo trasformare dall'eucaristia cioè lasciamo che l'eucaristia faccia emergere da noi il dono di noi stessi che l'eucaristia ci insegni l'amore che è decentrarci che ci faccia passare dal sacrificio al dono di noi stessi ecco perché soltanto quando entriamo nella dinamica dell'amore sperimentiamo che cosa sia la vera gioia soltanto quando sperimentiamo il dono avvertiamo che cos'è il paradiso e che cos'è la beatitudine del paradiso che le beatitudine di chi ama ed è messo nelle condizioni di riuscire ad amare e di amare fino in fondo ecco augurio che la vita di Carlo Acutis ma anche questa questa spiritualità eucaristica che gli ha portato avanti e che adesso fermenta e feconda tante comunità cristiane possa diventare un fatto concreto anche dentro la nostra vita affinché ognuno di noi un po' alla maniera di questi santi possa costruire una relazione personale con Cristo possa valorizzare questi tesori che il Signore ci ha lasciato e proprio per questo possa portare qualcosa di nuovo in questo momento della storia che chiede a noi testimonianza e sapete l'unica testimonianza che noi possiamo dare al mondo è mostrare al mondo che il Dio in cui crediamo esiste e l'unica maniera che abbiamo per convincere gli altri che Dio esiste è il modo con cui noi viviamo è il modo con cui combattiamo è il modo con cui sappiamo anche perdere e morire cioè il modo con cui una persona vive tutte le stagioni della propria esistenza è l'unica maniera che noi abbiamo per dire al mondo che quel Dio invisibile in realtà è un Dio reale e che è venuto a salvarci e che ha riempito la storia di una salvezza che è per tutti e che questa salvezza davvero vuole arrivare fino alle estremi confini della terra e pensate un po' che tutto questo parte da un bambino adagiato in una mangiatoia è il segno che viene dato ai pastori e poi ai magi e questo segno semplice di un bambino fragile adagiato in una mangiatoia è diventato poi un pezzo di pane adagiato su un altare che passa attraverso anche le mani dei sacerdoti che passa attraverso la chiesa che passa attraverso la vita di ciascuno di noi ecco questa eucarestia che attraversa la storia è il Cristo che continua a essere presente a operare e a trasformare il cuore dei discepoli e proprio per questo continua ad annunciare questa buona novella grazie 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 a tutti